we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi ne abbiamo davvero di tutti i colori di cui parlarne oggi arriverà tra pochissime ore la prima patch della season numero 9 parliamo della patch 9.01 che introdurrà un po di novità davvero super interessanti ma ovviamente anche nuove skin e probabilmente ragazzi una nuova ltm quella che vi ho evidenziato in azzurro potrebbe arrivare con questa patch la nuova modalità a tempo limitato weeks bounty quella che si parla oramai da parecchi giorni quindi oltre agli aggiornamenti e alla nuova ltm voglio invece parlarvi di una cosa incredibile un metodo totalmente legale con cui epic games ci regalerà ben 10 euro 10 dollari sarebbe ovviamente la cosa ma essendo noi in europa 10 euro tanta tanta roba voglio però prima ringraziare tutti quelli che utilizzano nello shop il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per supportare il canale mi raccomando non dimenticate di iscrivervi e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima però ragazzi ai 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 prima ragazzi vi voglio fare la domandina quella che mi piace un sacco mi raccomando i vostri commenti proprio qua sotto e la domanda è un po nostalgica ragazzi è un po nostalgica ma ve la faccio ugualmente ma qual è la tua skin preferita del pass battaglia finale tra tutte quelle che ci avete in mente quale vi piace di più john wick omega ragnarok lusso e tutte le altre ragazzi io sono uno che non ama i robot particolarmente ma la mia preferita è omega con i led viola mi piace davvero tantissimo e li li con ragnarok perché anche il ragnarok è veramente op però omega è tanta tanta roba ditemi qual è la vostra ci tengo un sacco qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vedere finalmente il messaggio ufficiale presente nella dashboard nella lobby del nostro fortnite che annuncia l'arrivo della patch alle ore 9 di questa mattina ora non ricordo se le nove chat sono le 10 per noi credo in realtà è che no perché il central european time che sarebbe il chat dovrebbe essere proprio alle 9 si preannunciano davvero leaks interessanti per questa patch che comunque sembrerebbe richieda anche un piccolo downtime dei server non è specificato da nessuna parte che non ci sarà quindi quando non viene detto probabilmente andranno giù i server per appunto inserire anche molto probabilmente la nuova modalità wix bounty con tante sugose novità ne parleremo un po più avanti ragazzi e sicuramente ce ne sarà per tutti ma andando avanti eccola qua un'altra delle novità ovviamente di questa patch lo avete già visto lo abbiamo già visto da ieri nelle news ufficiali in game l'arrivo finalmente del nuovo fucile con mirino ora non sappiamo se questo fucilozzo potrà andare a sostituire quello che a me viene in mente che è l'acog che se ci pensiamo un attimo è più o meno un fucile col mirino non sappiamo quanto sia la distanza di questo mirino visto così potrebbe massimo massimo essere un 4 per non so se ve ne intendete e io vedo che potrebbe andare a sostituire appunto il nostro fucilozzo già che abbiamo l'acog col mirino abbiamo però delle informazioni extra in anticipo ragazzi tre le rarità per questo fucile raro epico e leggendario con 25 26 e 28 di danno al corpo a colpo in base alla rarità il massimo il minimo danno 14 80 no 14 85 15 50 16 02 in base alla distanza con cui colpiamo il bersaglio sappiamo che avrà un caricatore da 30 colpi quindi classico per un mitra e sappiamo anche che in base alla rarità del fucile il tempo di ricarica diminuisce quindi due secondi e due due secondi e nove e un secondo e 98 ragazzi 30 colpi in un secondo e 98 di ricarica sono veramente veramente tanti spara 7 colpi al secondo e sappiamo che utilizza light bullets quindi sembrerebbe munizioni leggere secondo me non sono leggere ma secondo me sono medie però questo è quello che ci viene detto staremo ovviamente a vedere e lo proveremo nel corso della giornata di oggi ma andiamo avanti e parliamo ragazzi di questo messaggio incredibile non so se lo avete visto perché è durato pochissimo non più di 5 10 minuti nelle news di ieri ragazzi quindi sappiamo già che è una cosa ufficiale ed è una promozione che è stata in realtà anche confermata in un tweet da epic games che ha semplicemente detto che arriverà questa promozione ma non in questi giorni devono ancora sistemare delle cose comunque si parla davvero di pochissimi giorni allora ragazzi epic games regalerà un credito di 10 euro quindi si presume mille vbucks in poche parole a tutti coloro che ancora non hanno attivato il 2FA ragazzi che cos'è il 2FA io voglio fare due secondi di delucidazione perché molti in live midi text shooter io non riesco ad attivare il 2FA non so come si fa allora io ho già fatto un video vi invito ad andare a cercarlo lo trovate tra uno dei miei video più visti in assoluto questo è come abilitare l'autenticazione a due fattori che cosa serve l'autenticazione a due fattori serve per evitare che perdiate o che vi rubino l'account quindi è importantissimo attivare l'attivazione a due fattori per farlo ragazzi dovete vi faccio vedere direttamente con il mio browser sono nella pagina di epic games come vedete qua c'è il mio account quindi voi entrate nel vostro account e nella colonna di sinistra andate su password e sicurezza una volta che siete nella pagina di password e sicurezza scendete fino ad andare alla voce autenticazione a due fattori come vedete io non posso cliccarla perché l'ho già attivata cliccate sul app authenticator che dovrebbe rimandarvi semplicemente a un programma interno di google quindi con la mail che avete lasciato al momento dell'iscrizione del vostro account potrete ricevere semplicemente un codice che una volta inserito vi darà l'abilitazione a due fattori vi consiglio solo di aspettare a farlo oramai che arrivi la notizia in game in modo da prendervi appunto i 10 euro ma voglio anche farvi vedere una cosa purtroppo non ho ancora tempo di farvi vedere la ltm ma va bene la vedremo oggi in game ragazzi questo lo avete riconosciuto è un fortweight è il fortweight numero 100 ma ragazzi è stata liccata guardate che cavolo è quella cosa ragazzi so che non ne capite che non la potete vedere perché è piccolissima questo è l'elenco di tutte le sfide dei fortweight per questa season 9 ma quello che a noi interessa è proprio la prima riga ragazzi completando tutto il puzzle si otterrà una scia gratuita quindi una scia da poter utilizzare nel battle royale molti fortweight sono sparsi nella mappa c'è una playlist che trovate nella home page del mio canale con tutti i fortweight giorno per giorno aggiornati altri si ottengono semplicemente con le vittorie oppure i punti esperienza beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video vi ricordo che stamattina fra poco troverete nella mia pagina instagram un po' di leaks se ce ne fossero della nuova patch iscrivetevi al canale codice creator xuderone noi ci vediamo in live alle 13 ciao 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 ciao